Inaugurato nella frazione di Piano della Lenta a Teramo il Museo Paleontologico e Centro Erpetologico Office, una struttura che si occupa di divulgazione scientifica, attività didattica, studio e ricerca nell'ambito erpetologico e paleontologico. Nella galleria sono esposti veri fossili di dinosauri, rettili e altri vertebrati e invertebrati del passato, con una sezione dedicata al mondo dei rettili contemporanei e alle specie autoctone. Il museo è anche aperto ad ogni forma di collaborazione tra ricercatori scientifici per lo studio degli esemplari ospitati. Abbiamo fuso le due materie che studiamo perché nasciamo principalmente come centro di ricerca, quindi svolgiamo attività scientifiche e pubblicazioni scientifiche, sono i materiali che escono dai punti delle ricerche che facciamo. Abbiamo deciso anche di aprire al pubblico un giorno alla settimana, la domenica, anche comunque con scopo sempre di divulgazione scientifica. L'obiettivo è anche quello di coinvolgere le scuole? Sì, lavoriamo già da diversi anni con le scuole, andiamo noi negli istituti, adesso faremo anche qualche prova di ospitare le classi qui sul posto. All'interno della struttura quali animali possiamo trovare? Allora, prevalentemente serpenti, ma c'è anche qualche sauro. Serpenti, diciamo la metà degli esemplari che abbiamo qui in custodia sono serpenti europei, quindi autoctoni, alcuni li troviamo anche qui nella provincia nostra, in Abruzzo, nella provincia di Teramo. Questo serve anche per far conoscere ai visitatori la realtà che vive qui in Abruzzo, appunto, quindi le specie con le quali condividiamo il territorio. Grazie. Grazie. Grazie.